La ragazzina di 11 anni, Giulia Dedola, ha commentato una foto di Chiara Ferragni in intimo, chiedendole quale fosse il messaggio che voleva trasmettere con quell'immagine. Purtroppo Giulia è stata bloccata e il suo account Instagram è stato cancellato. Giulia è una promettente cavallerizza con il sostegno della sua famiglia che la incoraggia a esprimere le sue opinioni, anche se divisive. Nonostante il suo account sia gestito dalla madre, Giulia ha utilizzato Instagram per seguire l'influencer, i personaggi famosi che le piacciono. Dopo l'episodio in cui ha commentato la foto di Ferragni, il suo account è stato disattivato, attirando l'attenzione come la ragazzina che ha sfidato Chiara Ferragni. Nel suo commento Giulia chiedeva spiegazioni sul messaggio che l'influencer voleva comunicare alle ragazze come lei con quella foto. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue, quaderni, costumi da bagno, vestiti. Mi piacciono molto, però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari, danno messaggi sbagliati. Non c'è un senso a questa foto. La risposta di Ferragni sull'accettazione del proprio corpo è stata deludente per Giulia. La madre di Giulia ha difeso sua figlia sostenendo che non si dovrebbe tacere un'opinione espressa da una bambina. Anche il padre ha appoggiato la figlia, affermando che i ragazzi hanno la capacità di pensiero critico.